Le volti dell'estate in Calabria, prezzi contenuti negli alberghi e fino a ottobre i weekend nelle vigne. Weekend nelle vigne, da oggi e fino al 18 ottobre sarà possibile passeggiare nei vigneti, conoscere i vini calabresi e pranzare o cenare in 20 cantine della nostra regione. Un'iniziativa targata, turismo del vino, ma ci racconta di più Davide Fiorani. C'è chi ha scelto il mare e chi la montagna. Ora c'è una terza soluzione, il weekend nelle vigne. 20 cantine in tutta la Calabria fino al 18 ottobre offriranno la possibilità di passeggiare nei vigneti e degustare buon vino, ovviamente a pranzo o cena. Abbiamo pensato in Calabria di organizzare tutti i fine settimana, da metà luglio a metà ottobre, questa manifestazione weekend nei vigneti, proprio per incrementare l'afflusso verso queste piccole aziende calabresi. Ci sono cantine che stanno aperte al mattino fino a pranzo, altre che stanno aperte di sera, altre che fanno aperitivi. E quindi c'è sempre, nel rispetto della normativa anti-covid, la possibilità di fare una bella degustazione, un bel giro nei vigneti e un pranzo con i prodotti tipici locali, oltre ai vini naturalmente calabresi. Un modo per aiutare anche le zone più in difficoltà, come nella Costa Viola dove regna lo Zibibbo. Riuscire a dargli un brand specifico per la Costa Viola darà la possibilità al prodotto e al sistema prodotto territorio Costa Viola di essere rilanciato come un tempo e di dare più reddito al tessuto economico agricolo di tutto il comprensorio. Qui produrre vino è una sfida stretti tra mare e montagna per la cooperativa Terre della Costa Viola. L'obiettivo è quello di manutenere questi terrazzamenti, questi vigneti e questo patrimonio che è unico e di recuperare quelli abbandonati. Si punta a produrre del vino, vino locale, vino di alta qualità e l'uva Zibibbo naturalmente. Il movimento turismo del vino Calabria ci crede una sfida da vincere solo con amore e passione. È un mestiere, sono facendo con passione e tutto va bene, sennò meglio non mi compare di fatto, non mi ingannate. Turismo pesano molto sulle scelte in quest'estate post-covid, anche i costi delle vacanze. Bagnara, grazie ai prezzi contenuti, è una delle mete più gettonate. Il rapporto qualità-prezzo ha inciso infatti positivamente in termini di prenotazioni. Non c'è soltanto il mare però, nell'offerta della Calabria sono appena partiti infatti i weekend nelle vigne. Fino al 18 ottobre sarà possibile passeggiare nei vigneti, conoscere i vini calabresi, pranzare o cenare in 20 cantine della nostra regione. È un'iniziativa targata Turismo del Vino.